Benvenuti in questo video nel quale ci dedicheremo a una delle funzioni in assoluto più importanti di Google Classroom vale a dire quella di poter assegnare dei compiti che i ragazzi possono svolgere totalmente in digitale questa funzione ritengo che sia tra le più importanti perché attualmente le piattaforme che fungono da registro elettronico non sono così raffinate e facili da usare come Google Classroom finora molti docenti hanno ricevuto naturalmente consegne in formato elettronico anche al di là della specifica emergenza del momento tuttavia il canale era spesso quello della posta elettronica naturalmente anche questo è un canale valido però rischia di essere molto poco ordinato Classroom ha un enorme vantaggio una volta che i ragazzi effettuano la consegna è Classroom stesso che le ordina in specifiche cartelle il cui nome è il nome del compito che abbiamo assegnato quindi tutta la parte di stoccaggio delle prove, di indicizzazione delle prove viene fatta in maniera assolutamente automatica da Google Classroom ovviamente se seguiamo la procedura che ora vedremo quindi questo video tutorial serve soprattutto ai docenti che intendono consegnare delle prove ai ragazzi far loro svolgere tali prove ma non riceverle più mediante la soluzione della posta elettronica ma mediante la funzionalità di Classroom brevemente ora ricordiamo a tutti che Classroom è disponibile anche in formato mobile tuttavia per fare prove come quelle che vedremo tra qualche istante è molto scomodo usare l'app l'app in definitiva è comoda per consultare materiali e non per produrre materiali ricordiamo che per entrare in Classroom occorre naturalmente fare il login inserire cioè nome utente e password cliccare i nove quadratini in alto a destra che ormai abbiamo imparato a conoscere oppure andare direttamente nell'indirizzo classroom.google.com ci apparirà il nostro pannello delle classi questo al momento è il mio e tra qualche istante vedremo una vera e propria simulazione di un compito nella nostra palestra di Classroom allora vediamo innanzitutto come procedere alla creazione di un compito dobbiamo procedere nella stessa identica maniera che usiamo regolarmente quando noi costruiamo per i ragazzi una prova il cui esito spesso è la fotocopia e la consegna anche verbale quindi dobbiamo preparare la prova nello specifico io adesso voglio simulare di far lavorare i ragazzi su Agenda 2030 ASBIS che è l'agenzia italiana di cui ora vi mostro il sito l'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ha creato uno straordinario portale che vi invito a consultare che è ASBIS.it dove sono elencati tutti quanti i 17 goal i 17 obiettivi di Agenda 2030 per ognuno dei quali sono predisposti degli ottimi materiali di lavoro per esempio istruzione di qualità oppure, ed è proprio questo forse il momento di leggerlo il goal 3, quello sulla salute e benessere quindi io al momento voglio far lavorare i ragazzi su questo tipo di argomento quindi vado nel mio Google Drive e predispongo una prova una prova scritta, proprio come fosse un normalissimo compito in classe quindi vado su Nuovo, Documenti Google apro un documento che è totalmente vuoto eccolo qui, e comincio a elaborarlo io per farvi risparmiare tempo l'ho già elaborato ed è questo qui è un semplicissimo file di testo dove io scrivo Relazione su Agenda 2030 immaginiamo che questo compito sia fatto di due parti la prima è la risposta a certe domande che predispone il docente la seconda è magari una relazione più personale dell'alunno ho scelto questa immagine che tuttavia non è obbligatoria e poi ho fatto delle domande perché i miei ragazzi hanno effettivamente letto determinati documenti e quindi scrivo quali sono i numeri della dispersione scolastica in Italia nel 2018? questo è l'obiettivo 4, istruzione di qualità qual è la posizione di Greenpeace sui combustibili fossili? le cose collegato, il dato di 683 milioni di dollari e via discorrendo quale sarà l'impatto delle auto elettriche nel 2025? cosa si intende per turismo sostenibile? quindi ho elaborato la mia prova adesso proprio come fossi in presenza devo andare nella mia classe cioè come quando siamo in presenza entriamo in classe qui entriamo nella nostra classroom la nostra classroom è come al solito questa palestra di classroom stavolta non mi posiziono nello stream nel flusso ma nei lavori del corso quindi clicco qua su ecco come vedete qui le opzioni sono molto poche io vado su crea e nello specifico caso di oggi io vado su crea un compito come vedete ci sono molte altre opzioni solo che compito è quella più ampia le altre per esempio un compito con un quiz aprirebbe un google moduli una domanda aprirebbe una semplice domanda qui le vedremo in altri tutorial ora mi interessa questa perché è in assoluto quella più usata dai docenti quindi crea un compito io clicco ecco qui il titolo il titolo lo vado a riprendere direttamente dal mio documento così non lo sto a riscrivere scrivo agenda 2030 e quindi lo incollo qui titolo incolla relazione su agenda 2030 le istruzioni posso come vedete scritto facoltativo posso inserirle come no nel mio caso in genere ho l'abitudine di inserirle direttamente nella prova però volendo posso eventualmente inserirle anche qui che so rispondi in almeno sei righe a tutte le domande proposte poi arriva la cosa più importante aggiungi io qui devo aggiungere ai ragazzi ecco qui il documento che ho appena creato per loro quindi vado su aggiungi drive perché l'ho creato in drive se non fosse in drive lo prenderei da qualche altra parte ma vado su drive google drive mi propone eccolo qui come prima scelta l'ultimo documento fatto presupponendo che è quello che mi serve lo clicco e vado su aggiungi come vedete questa relazione è stata usata ora la funzione in assoluto più importante quella che non dobbiamo dimenticare qui le opzioni sono tre gli studenti possono visualizzare il file in questo caso i ragazzi non possono fare nulla possono solo leggerlo oppure gli studenti possono modificare il file attenzione se scegliamo questa tutti gli studenti di una classe nessuno escluso lavora su un solo file questo potrebbe essere utile se i ragazzi fanno un lavoro di gruppo ma ripeto ancora usando questa funzione tutti lavorano su un singolo documento la qualcosa in genere non è così utile oppure ed è in assoluto la funzione che userete di più crea una copia per ogni studente in questo modo ogni studente vedrà per sé l'arrivo di questa relazione e sostanzialmente la potrà compilare in autonomia dagli altri questa dunque ripeto ancora è la funzione più importante qui c'è ulteriori informazioni per esempio qui possiamo stabilire per quali delle nostre classi assegniamo questo compito perché magari è un compito che possiamo assegnare anche a più di una classe se lo vogliamo assegnare a tutti gli studenti o magari solo a due o tre pensiamo a un compito di recupero se il compito avrà una valutazione in centesimi oppure in decimi oppure senza voto se avrà una scadenza e questo è abbastanza importante qui naturalmente esce fuori il calendario eccola qui la scadenza se un ragazzo prova a fare il compito dopo la scadenza il compito è fattibile però viene segnalato chiaramente al docente che il compito è stato fatto in ritardo l'argomento deve essere stato scelto a priori nel mio caso non c'è nessun argomento lo creo dunque ora l'argomento è proprio agenda 20-30 e quindi l'argomento è stato assegnato ora ho fatto tutto quanto controllo ancora una volta di aver scelto crea una copia per ogni studente e vado su assegna adesso tutti i partecipanti a questa classroom hanno ricevuto la notifica del fatto che un docente ha inserito un compito se io infatti vado su stream ecco qui in automatico classroom ha scritto Emiliano Nori ha pubblicato il nuovo compito relazione su agenda 20-30 io clicco ecco qua questi sono tutti gli aderenti alla classe che hanno visto l'assegnazione di questo compito mano a mano che tutti questi studenti docenti in questo caso consegneranno qui da assegnati avremo che so 15 assegnati 0 consegnati o fra un po' un consegnato 14 assegnati e via discorrendo in un prossimo video vedremo poi come intervenire su ciascun compito per correggerlo e magari anche per restituirlo ai ragazzi